Ehm, scusa ma tu sei Thanos? Sei! Ehm... Mi spieghi perché vorresti tutte le pietre dell'infinito? Si chiamano minerali, ignorante! Sè, sè. Mi servono i minerali dell'infinito perché ho bisogno di diventare onnipotente ed uccidere metà degli esseri viventi esistenti in tutta la galassia! Eeeeee, la madonna! Perché al momento siamo troppi e non possiamo mangiare tutti quanti, allora ne ammazziamo la metà e gli altri la metà sta bene, capito? Come sono buono, faccio tutto quanto io! Ma, scusa, ma se diventi onnipotente, no? Eh! Scusa, non potresti invece che ammazzare tutti quanti, cosa molto umana eh direi, molto umana, ma invece di ammazzare tutti quanti non potresti dare tutti quanti da mangiare o eliminare per sempre la fame nell'universo, che so, manifestare cibo infinito per tutti quanti? Sei onnipotente! No, non posso farlo! Perché non lo puoi fare? Perché... E perché... Vabbè ragazzi non ci avevo pensato, scusate! Vabbè dai capita, tutti quanti possono sbagliare, mi sono un po' confuso! E uno proprio non ci pensa a queste cose che vuoi! E quindi, ricapitolando, ti sei preso l'energia, il raggio termico di una stella addosso, proprio in piena faccia! Sì, perché io sono figo, capito? Tu non lo sai fare sta cosa, tu sei un pirlo! Io invece sono figo, faccio queste cose incredibili! Energia che ha sciolto un metallo che è tipo indistruttibile, però quell'energia è riuscita a scioglierla, no? Eh sì, perché io sono figo, capito? Poi... Guarda che muscoli! Pss! E tu non lo sai fare questo, guarda che bello, che potenza! E quindi, tu ti sei preso in faccia sto raggio che ha sciolto il metallo E non ti ha manco dato a fuoco i vestiti? Cioè, manco ti li ha bruciati un pochino i vestiti? Erano ancora là? Non ti ha bruciato manco un capello? Non hai perso manco un sopracciglio che dici che è dato a fuoco, no? Tutto... il metallo si e te no? Eh no, perché io sono figo, che se uno non lo sai capito? E poi ho preso il martello dopo, il martello Il martello... Era bello il martello e quindi sono... Bene, adesso sto bene Tante care cose E scusa, ma precisamente sto martello, no? Che poi non è un martello che nasce, ma... È fatto dello stesso materiale del martello di prima E beh sì, perché il materiale è bello, quindi capito? Per uno figo come me, il materiale è bello, così... Così si abbina agli occhi e ci sta Ma se è dello stesso materiale di prima, allora perché è più forte questo qua? Perché... Perché è una forma diversa, lo sanno tutti Questa è una forma diversa, quindi quello è più... Questo è molto più forte di quello di prima E poi perché sono figo, capito? I muscoli, guarda, guarda come mi bacio i muscoli, guarda Tu non lo sai fare... Io sono figo così E adesso analizzeremo un po' di cose che avrebbero fatto vincere gli Avengers Amo! Eh, che c'è? Qua sta arrivando Thanos, mi devi distruggere la pietra che c'ho in testa Che altrimenti qua succede un casino Ma io ti voglio bene! Lo so, ma succede un casino qua, moriamo tutti quanti, beh! Va bene, va bene Oh nooo! Fine! Amo! Eh, che c'è? Mi devi promettere che mi ammazzi, eh? Cos'è, scusa? No, mi devi ammazzare perché io so dove si trova l'altra pietra qua Se mi beccatano, succede un casino, non capisci? Moriamo tutti quanti E vabbò Bang! Oh mio Dio, che disdetta! Fine! Uè, Stefano Stra Uè, re del nord Qua bisogna distruggere la pietra che sennò succede un casino, eccetera eccetera Vabbò, eh, la nascondo bene bene Ma è meglio se la distruggiamo secondo me Vabbò, va, distruggiamolo Vabbò, va BOOM NOOOOO Che peccato Tutti sono salvi fine Comunque il Dottor Stefano Strano, dai È un gran paraculo C'è già ha avuto la possibilità di vedere Questi 14 milioni di universi di futuri alternativi Che è un po' come barrare, dai Ma poi dice, ah, c'era uno in cui avevamo vinto Quindi lui che fa? Dà la pietra a Thanos E dice, questo è l'unico modo possibile Un po' come a dire, eh, grazie a questo momento in cui gli sto dando la pietra Noi avremo la possibilità di vincere Tutto per questo che gli sto dando la pietra Però è un gran paraculo È un po' come se io inciampassi per strada e dicessi Ah, ragazzi, sono inciampato, avete visto? Guardate tutti quanti Memorizzatevi questo momento perché Quando batteremo Thanos Sarà soltanto grazie a questo momento in cui sono inciampato E tutti gli dicono, grazie al cazzo che lo batteremo Cioè il cattivo qua, la saga è così E funziona, a un certo punto lo batteremo Però intanto, metà della popolazione è morta Quanto è paraculo, dai Bravo, sono fiero di te Tu sei che sei un gran pirata Grazie a tutti Grazie a tutti